Una cosa! Una cosa devi fare, Knuckles! Ma che è successo stavolta? Ti posso spiegare! È venuto dal cielo dicendo di essere un gioielliere che vuole esaminare il mouse to heavenland. Ma che cazzo dici? Ragazzi, abbiamo raggiunto la battleship di Eggman là davanti! Eh? Sei pronto ad andare, Sonic! Quando ti pare, Tails? Hei! 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 Guh! Dao! Sonic! Abbatti la barriera! Super Sonic! 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 Ma! Cosa cazzo? Lira di Neizo, doppiata in italiano tardi prima che esca!